Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dello zaino d'alpinismo di Seamond, marchio Decathlon, il modello Alpinist 33. E nel particolare oggi vi dico perché vi sconsiglio fortemente di acquistare questo zaino. Ma iniziamo con la recensione. Come al solito, prima di iniziare qualche dato fornito dalla casa per questo Seamond, innanzitutto troviamo diverse taglie, troviamo il 22, i 33 e i 40 litri. In particolare, come dicevo, la versione da 33 litri e pesa meno di un chilo, 990 grammi. Adesso che abbiamo visto qualche caratteristica, iniziamo con i pregi e i difetti. Iniziamo come al solito dallo schienale, che vi assicuro è il problema più grosso di questo zaino e dal motivo per il quale poi non vi consiglierò di acquistarlo. Questo zaino fa sudare tantissimo, davvero tantissimo. Non ho mai trovato uno zaino d'alpinismo che faccia sudare così tanto. E va bene che dicono che sia un po' traspirante, ma vi assicuro che con questo zaino vi farete di quelle sudate incredibili. Ma il vero problema non è tanto la traspirabilità dello zaino, quanto la sua rigidità. Questo zaino non è per nulla rigido, non ha uno schienale rigido. Questo cosa vuol dire che quando andremo a mettere nella parte posteriore un po' di materiale, magari una decina di chili, con dei rinvidi, della corda, dei ramponi, eccetera, lo zaino tenderà a inarcarsi e a portare tutto lo sbilanciamento del carico verso la parte posteriore. Quindi vi tirerà tantissimo le spalle e vi assicuro che dopo che avrete fatto due ore con 10 kg sulle spalle con questo zaino, avrete le spalle completamente distrutte. C'è proprio da farvi male il trapezio e tutta l'articolazione della spalla. Veramente questa struttura dello schienale è super bocciata perché non è sostenibile utilizzarla. Cioè dopo due ore veramente avrete le spalle a pezzi. Continuiamo e possiamo parlare della fascia lombare che è fatta del medesimo materiale con cui è fatto lo schienale, quindi da punto di vista la traspirabilità bocciata. Per quanto riguarda invece lo scarico del peso, lavora abbastanza male. Diciamo che lo scarico del peso è veramente minimo, con questo zaino io sinceramente ci porterei veramente 6-7 kg al massimo, ma per uno zaino 33 litri di alpinismo è abbastanza ridicolo come kg da portare. Diciamo che serve più per tenere fermo lo zaino rispetto a scaricare il peso in questo caso. Sulla parte di destra troviamo una tasca in cui andare a riporre un telefono o comunque qualche oggetto. Nella parte di sinistra invece troviamo una fettuccia porta materiale. Per quanto riguarda la chiusura con la clip nella parte anteriore, anche lei bocciata, perché nel momento in cui magari andiamo a piegarci un po' in avanti, stiamo facendo magari dei passaggi un po' complicati, vogliamo andare ad aprire lo zaino perché ci dà fastidio la fascia lombare, questa va sempre a incastrarsi e non riusciamo ad aprirla. Vi assicuro, questo tipo di aggancio sarà di bassa qualità, ma almeno che non siate completamente dritti non riuscite ad aprirla, quindi secondo me è bocciata. Passando agli spallacci, allora loro hanno anche una buona sezione, sono abbastanza grandi quindi non sarebbe neanche male, il problema anche qua è il materiale con cui sono fatti. Fanno sudare tantissimo, alla fine della giornata siete completamente sudati con questi spallacci. Complice poi, come dicevo, lo schienale, questi vi tagliano le spalle, ma tanto, davvero tanto. Sulla parte finale di questi due spallacci poi troviamo anche due porta materiali con cui andare a appendere qualche moschettone, oppure magari i moschettoni da via ferrata che fanno parte del dissipatore quando andiamo a fare qualche sentiero tecnico. Comunque in generale davvero tutta la parte anteriore di questo zaino è bocciata, partiamo dallo schienale alla fascia lombare, si potrebbero salvare gli spallacci perché comunque fortunatamente sono abbastanza grossi, ma alla fine male fascia lombare, male schienale, anche gli spallacci tendono a lavorare male. Quindi la parte anteriore vi assicuro è quella che davvero mi fa dire non comprate questo zaino. Passiamo invece alla parte posteriore di questo Simon d'Alpinist 33, iniziano dai due lati. Vi annuncio che i lati sono simmetrici, quindi ne vedremo solamente uno. Sono molto semplici, hanno semplicemente due fettucce, andare ad aprire con le rispettive clip per andare a fissare una corda, nel caso in cui la si porti, oppure portare lateralmente degli sci. Non troviamo null'altro. Solo sul lato di destra invece troviamo una cerniera che ci permette di andare ad aprire lo zaino in modo tale da poter prendere gli oggetti riposti nella parte inferiore, soprattutto se magari abbiamo sopra una corda, riusciamo a prenderli senza dover tirar via la corda, quindi questo è sicuramente buono. E poi, aspetto che ho particolarmente apprezzato, è che questi clip possiamo andare a combinarli tra i due lati, per andare a chiudere nella parte posteriore molto tale da portare o uno skateboard o delle ciaspole. Devo dire che come soluzione non è male, l'avevamo già vista su Ortovox una cosa simile ed è veramente molto apprezzata. Parlando di parte posteriore vera e propria, beh, è una zaino dal pianismo, quindi è abbastanza spoglia. Troviamo la possibilità di portare due piccozze, oppure due bastoncini da parte e una piccozza dall'altra. Abbiamo la possibilità di portare gli sci di taglio, grazie alle fettucce presenti nella parte bassa e superiore, posta dove c'è l'apertura dello zaino, ma poi non troviamo nient'altro, è uno zaino veramente molto molto semplice da questo punto di vista. Per quanto riguarda la chiusura posteriore, beh, questa è molto classica, basta tirare il cordino e si va a chiudere, con l'apposita clip si va ad aprire, nulla di rivoluzionario. Per quanto riguarda invece il cappuccio, qui troviamo due tasche, uno esterna, uno interna, qui tutto normale, abbastanza grosso in le tasche, quindi ci stanno, e soprattutto nella parte posteriore abbiamo anche integrato il portacasco, quindi nel caso in cui dovessimo aver bisogno, possiamo portare anche il casco nella parte superiore. Per quanto riguarda i materiali, anche qua mi sono trovato abbastanza male. Io ho utilizzato questo zaino per tre singole uscite, perché poi veramente non ce la facevo più a utilizzarlo, le mie spalle chiedevano pietà, e di queste tre uscite ne ho fatta solamente una veramente tosta, in cui sono andato a strusciare lo zaino su roccia, e vi assicuro, in una singola uscita si è strappato in diversi punti il materiale dello zaino. Quindi devo dire un materiale per nulla durevole, uno zaino che se utilizzato facendo dell'alpinismo, non dico tecnico, però abbastanza tosto su roccia, si va completamente a strappare, quindi assolutamente bocciato anche da questo punto di vista. Per quanto riguarda il comparto acqua, beh, non troviamo rain cover, naturalmente perché è una zona d'alpinismo, non abbiamo delle tasche esterne dove andare a riporre la borraccia, la borraccia andrà riposta all'interno dello zaino, ma volendo c'è la possibilità di inserire la sacca idrica, con la possibilità di far uscire la prolunga sulla parte anteriore per bere. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Simon d'Alpinist 33. Ve lo consiglio? No. Come vi dicevo, assolutamente no. Va bene che viene venduto a un prezzo di 59,99€, 60€, però secondo me in questo caso risparmiare rispetto a uno zaino magari da 100€ d'alpinismo è veramente controproducendo, perché con questo zaino arriverete a odiare l'alpinismo, secondo me. Veramente è uno zaino pessimo. L'unico caso in cui potrebbe aver senso utilizzarlo è se lo dovesse utilizzare da mezzo vuoto, senza corde, senza niente, quindi portando poco peso. Ma a quel punto penso che abbia anche più senso prendere la versione inferiore da 22 litri rispetto a questa qua da 33. Veramente questa versione qua da 33 litri io ve la sconsiglio, non prendetela in considerazione, guardate altro. Detto ciò ragazzi, in una speranza sia stato esauramente esaustivo anche per questa recensione, mi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Ciao!